Domani e domenica, dalle ore 9 alle 19, la Palaselle della città di Eboli ospiterà il quarto Grand Prix Campania Judo 2017 Memorial Pasquale Javazzo, un evento che calamiterà migliaia di sportivi provenienti da ogni angolo della nostra nazione. Sono oltre migliaia di attreti in gara appartenenti a società sportive delle varie regioni d'Italia, e tantissimi sono i referenti ed i delegati che nelle due giorni di Judo approderanno ad Eboli. Ad organizzare il tutto è il professore Pietro Amendola. Il sindaco Massimo Cariello ha commentato «La nostra città è lieta di ospitare questo grande apportamento internazionale, frutto del prezioso lavoro di coordinamento e di organizzazione portato avanti in questi mesi dal maestro Pietro Amendola, che si è avvalso della importante collaborazione dei membri del Comitato Regionale Campano di Fucilcam, Aldo Nasti, Presidente Comitato Regionale Fucilcam, del Vice Presidente Federazione Italiana, Presidente Settore Giudo Luigi Nasti, del Consigliere Federale Giudo Colonnello Giuseppe Matera, del Vice Presidente Campano del Giudo Bruno Di Santo e di Francesco Vitolo, referente dello staff tecnico organizzativo della provincia di Salerno.